Benvenuti. Il finanziamento della Chiesa. Il 17 novembre si celebra la giornata della Germano Fraternità, Fratellenza, Comunione dei Beni, il giorno della Chiesa di Ossessana. È l'unico giorno dell'anno in cui si fa nei tempi una colletta destinata a ciascuna della Chiesa locale di Ossessane. Quest'anno abbiamo scelto per questa giornata un lemma molto suggestivo, la Chiesa con tutti al servizio di tutti, per sottolineare due idee importanti. Da un lato, che la Chiesa è legata a tutte le persone e a tutte le istituzioni. La Chiesa è in mezzo del mondo e quindi è lì dove è chiamata a compiere la sua missione di evangelizzazione. D'altra parte, si vuole esprimere che il modo in cui la Chiesa è presente nella società è servendo. Il messaggio di Gesù a questo proposito è molto chiaro. Egli è il servo che dà la vita per tutta l'umanità e nell'ultima cena che celebrò con i suoi discepoli ci diede l'esempio di mettersi al servizio lavando i piedi e dicendo «Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti». In realtà si può dire che una Chiesa che non serve è inutile. Il Papa Francesco non si è stanca mai di dire che la Chiesa cattolica deve dedicarsi al servizio della società, soprattutto dei più poveri. Nella messa conclusiva della recente giornata mondiale della gioventù che presiedete a Rio de Janeiro, riassunse il suo messaggio ai giovani con queste tre parole «Andate senza paura per servire». La vita di Gesù, ci disse, è una vita per gli altri, è una vita di servizio e ci ricordò che, seguendo queste tre parole, colui che evangelizza è anche evangelizzato. La persona che trasmette la gioia della fede riceve ancora più gioia. Con i nostri limiti vogliamo essere fedeli a questa vocazione di servizio. L'Arcidiocesi di Barcellona si esforza per mettersi al servizio della società nel campo religioso, pastorale, educativo, culturale e di aggiunto materiale. In questi tempi di dura e prolungata crisi economica aumenta il numero di persone costrette a una situazione di povertà. È vero che nella società notiamo un risveglio della solidarietà da parte di molte persone, istituzioni civili e religiose che costituiscono il terzo settore sociale. Questo è un grande motivo di speranza e fa che tutta la società senta la responsabilità di aiutare le persone che soffrono di più le conseguenze della crisi. Nella messa conclusiva della recente giornata mondiale della gioventù che presiedete a Rio de Janeiro, riassunse il suo messaggio ai giovani con queste tre parole «Andate senza paura per servire». La vita di Gesù, ci disse, è una vita per gli altri, è una vita di servizio. E ci ricordò che, seguendo queste tre parole, colui che evangelizza è anche evangelizzato. La persona che trasmette la gioia della fede riceve ancora più gioia. Con i nostri limiti vogliamo essere fedeli a questa vocazione di servizio. L'Arcidiocesi di Barcellona si esforza per mettersi al servizio della società nel campo religioso, pastorale, educativo, culturale e di aggiunto materiale. In questi tempi di dura e prolungata crisi economica aumenta il numero di persone costrette a una situazione di povertà. È vero che nella società notiamo un risveglio della solidarietà da parte di molte persone, istituzioni civili e religiose che costituiscono il terzo settore sociale. Questo è un grande motivo di speranza e fa che tutta la società senta la responsabilità di aiutare le persone che soffrono di più le conseguenze della crisi. La nostra Diocesi ha anche necessità economiche per far sì che i nuovi quartieri abbiano una chiesa, un tempio e locali per sbogliere l'attività pastorale come la Catechesi, per esempio. Recentemente siamo stati in grado di farlo a Torre Barò e Ciutat Meridiana. Per questo chiedo il vostro contributo finanziario sia nella colletta o questura che viene fatta in questi giorni di Germano sia attraverso abbonamenti periodici a favore della Chiesa. Con questa generosità i membri della Chiesa Diocesana stanno aiutando a fare un lavoro importante e specialmente necessario nelle attuali circostanze. Prendo l'occasione della celebrazione di questa giornata per ringraziare di cuore la vostra collaborazione costante soprattutto nelle forme di volontariato ed anche economica alle moltiplici necessità della Chiesa Diocesana di Barcellona. Arrivederci.